Questa è la tranquillità di questi giorni, siamo una bomba, sole, mare, sale, sereni, spensierati, io il telefono lo si è scaricato due giorni fa, in due giorni non lo fotto più, quindi dai, buon proseguimento a noi, magari in altri villaggi, in altri paesaggi. Il weekend di questi tre ragazzi, chiamato l'avventura. Allora ragazzi, questo è il posto dove teoricamente si potrebbe alloggiare piccola fogliaia, ma fa tante caretta però. Capo tutte pericolanti, queste pignatte. Luca vuole dormire qua dentro. Mi vanno tutti i ferri, Bruno, insomma, dicino, perché l'ultima volta questi ferri. Vota la location, Bruno, 10. Vieni, poi non è sozzo il fuoco. Io ci penserei. Comunque, io direi che questo è il posto migliore per me, regà. Sì? Sì. Nonostante il vostro disaccordo con questa cosa, io vi vedo abbastanza convinti che quello è uno di posto molto valutabile come il nostro alloggio. Però ora è l'unico. Pieno. Ma è tutto pieno sotto. È pieno di gente. Sì, c'è una camera. È pieno, dai. Qua, come potete vedere, per terra ci sono delle macchie rosse che potrebbero essere le caperette, quelle antiche. In realtà non è così. Vedi anche lì. Segno del sentiero. Sì, attenzione. Qua a destra? Siamo in stato? Sì, attenzione. Sì, attenzione. Dopo vi vado ad andare anche qua? Gliel'avevo detto. Abbiamo chiamato il posto, non Caletta, ma Sun Paradise. Siamo in un posto adesso, come vedete bene, qua scendiamo. Come scendiamo? Da qua, da qua. Non è che è stato proprio di fiafizio? No, no, Pio. Sia mai. Ma qui vuole sapere, lo sai, no, prima degli altri, prima degli altri. Però comunque sì, magari era per forza di sfruttare, però. Qua. Gliel'avevo detto. No, vabbè, ma che ragno c'è sta qua? Quindi, doccia fatta? Doccia fatta. Adesso andiamo a cambiare macchina. E poi porto a fa un porro. Poi dove si va? Poi in cooperativa a mangiare il pesce. Abbiamo capito dove dormiamo, giusto? Sì. Dove? Alla base della caletta. Quindi adesso qua ci cambiamo? Questo è l'armadio? Ma non può essere meglio quello? Pantane lungo? Mai nella vita. Mai nella vita. Tizio, vi dure se c'è un pantalone corto. Bravo. Questi due giorni di vacanza sono stati fondamentali per staccare dalla città, tornare nel mio posto e vivermelo in maniera differente, seppur con i miei amici. La cosa bellissima è che, ovunque, insieme... Però, per te, io... Dimmi. Ti abbiamo prendito un giro? Dai, va bene, Alba, certo. Allora. Abbiamo vissuto la giornata, ci siamo docciati, abbiamo mangiato, abbiamo preso l'acqua e ci siamo diretti verso lo spot. Prima opinione su questa tenda appena montata, uno spoiler, occhio al masso. Beh, ben montata, ben costruita e niente, dai, penso che siamo ottimi. Qua c'è il mare. Siamo una bomba, cioè. Non si lascia nemmeno scappare una bella vita. Agli insegni animali sapori, si accontenta. E dico, mi spazierate a me. Penso che proprio tutto il fatto che sia davvero vinto di me. Come si è conclusa? Una bella scottatura, però molto bello, come sempre. Primo sole dell'estate? Mi fa diventato Bordeaux, perché non è proprio rosso rosso, è anche un po' abbronzato. Ma poi c'è il samurai in perterrile. E poi c'è il samurai che non... Non molla un colpo, eh. Si è bruciato, non si è abbronzato, niente. Ma io sto a posto. No, un po' di si è abbronzato. Comunque, niente, adesso il piano è fast a Jay, andare a ritirare i soldi, così dopo andiamo a fare un bagno al neandertal, una doccia, mangiamo una rosa... Andiamo pure a riprendere il costume di Luca che l'ha lasciato al neandertal ieri. Dobbiamo raccontar del tipo di prima. Diceva, che fate? Sono dei ragazzi mandati, cioè dai. Siamo un po' preso, lanciavano accogliendo il suono del sasso. E il samurai ha fatto, siamo già apparecchiati. Esatto. Fermo? Fermo? No, vedi, no, bro, non devi mettere il telefono. Io, come sapete, faccio un culo tanto che sta così e invece, no, te li vede. Ah, è a diretto, a diretto. Dillo, no, è un'orizzontale, no? Gasta un cheer, boy. Ja, lo sai. Certo, se si vedono le isole. No, si vede, grazie. Adesso, da là, porta in alto. Esatto. Si vedono, si vedono. La prima, eh? Quella da destra. Da destra? Palmarola. Vai. Poi, al centro abbiamo... Ponza. E lo portiamo. San Dore. Inquadra pure quelli che fanno l'aria di Palermo. 8-4 tiri, comunque, è da dire questo. Dai. Quello ci abbatte. I keep waiting for you For you to call For you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle Wasted again I told my friends I'm feeling like you're coming Cause I feel the sun For you to call her I'll let me show you For you to call me I don't know It's a little bit